Sindaco, la principale novità è la riduzione di stipendi rappresentanti del Comune in queste aziende? Si tratta di indennità di carica di amministratori più che di stipendi. Come noto noi abbiamo dato una sforbiciata al numero degli amministratori, ai compensi degli amministratori nel corso di questi anni, passando da un costo complessivo di 900.000 euro a 400.000 per dare un segnale evidentemente di rigore e di trasparenza, abbattendo quello che era un vero e proprio stipendificio in qualche modo legato alla politica nei periodi precedenti. Quali sono le altre situazioni che vuole segnalare? Dal punto di vista di Acegas in particolare il fatto che con la fusione in era sono cresciuti patrimonio del Comune e quindi della città, investimenti sul territorio, ricadute sulle imprese del territorio e occupati. Dal punto di vista di treste trasporti il fatto che si conferma nella continuità, è felice la partnership tra pubblico e privato e conseguentemente un'azienda efficiente e competitiva, anche qui in grado di garantire ottima occupazione e ottime ricadute sul territorio. Un'ultima domanda, a breve dovrebbe nominare i rappresentanti per Acegas, APS e AMGA. Alcune forze politiche di opposizione le chiedono un rinvio dopo le elezioni. Cosa risponde in merito a queste dichiarazioni? L'ho già detto, Acegas, APS e AMGA non è una controllata del Comune di Trieste, è una società proprietà del gruppo ERA e quindi è il gruppo ERA che convoca l'Assemblea dei Soci. Per quel che mi riguarda indicherò ai rappresentanti del Comune di Trieste l'opportunità, in caso di cambiamento alla guida dell'amministrazione, di rimettere il proprio mandato nelle mani del Sindaco, augurandomi ovviamente che questa eventualità non si debba verificare. Grazie. Grazie.